Musica Applausi 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 E aperto il gosserragno E in frate e in frate e caia Signore e nobili e signori Gli occhi di dolci, brividi ed orrori L'animale senza anima Osservate Che domato dal genio umano Fu E gli e la pittosa ripresentano L'animale E' di quei cose E' quel da tesco Che mi portiglia E' quel paio Che ci ne crea L'animale Qual è un animale Salve Me lo voleri Ora Signori Tu non vedi qui E da ti che Come vive ogni Santi per riuscire Ma ma E' d'orso Sol e scrive grande corno, ma dopo il passo quel canto. Il mio figlio si spettico e intanto, il mio figlio è la gioia a noi. E' in casa, in casa, in magra prunparanza, non ha polore, questo è un poiparanza. Prefette a feragli e incoerde armi, e non dova legge, incoerde armi. Uplastabile e incoerde armi, e mancina, di diretti come pure la vita. Perfite a feragli e incoerde armi, e non dove legge, confie la faccia di un uomo. E' in casa, in casa, in casa, in casa, allo canto, non dove legge, incoerde armi. washedam, lavastam, servente! A presto. 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 Stoicci! Allora! 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 Ma i sensi non mi ancora ripresi Io che fanno Il vero viene tratto Non se è vero Non è solo il sole Accenda più ormai Arma con rispetto Io vorrei sorridere Poverire grigiori Non è fatta così Io che farò Non è che una belva Guarda le mani in faccia Mi volerì Parlacchiano La verità Significa Io non lo so 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 Tu resti Io non lo so 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 Adesso è così E' un pozzo lei Io non lo so 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 che vuol sapere della vendita a te. Vestiti, su! Vestiti, su! Io soffrico il cielo di rendermi la qualità che lo spirito sembra che sia tutto in te. Voi, voi, voi ci sembrava! a a a a a No, 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 no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comandi? È arrivata la posta. La forticelli? Il tuo ritratto è intitolato Pallerina, venduto 50.000 mani. Non so proprio come difendermi dalla fortuna. Questa è la posta. Questa è la posta. Il consigliere di Stato Heimer-Kriter-Korzarnico ha l'onore di partecipare al fidanzamento di sua figlia Charlotte Maria Gertrutt con il signor... Doctore Heimann. Doctore Heimann. Un fidanzamento ufficiale. Comunque dobbiamo congratularci oggi stesso. Grazie. Maledetto, suona. Fermo, nessuno in casa. Non apriamo e basta. Ma forse è il meglio del canto di Parigi. Maledetto, suona. Maledetto, suona. Maledetto, suonire, suonire, suonire. Maledetto, suonire, suonire. Appunto, vengo qui, per questo. Quanto vuoi? Duecento. Se hai liquidi con te, per conto mio, anche trecento. Se hai un bucci di, per conto mio, anche trecento. Siamo stanno. È un bucci di. Maledetto, suonire, suonire. Maledetto, suonire, suonire. Maledetto, suonire. Maledetto, suonire. Grazie a tutti.